Per il terzo anno consecutivo la Regione finanzia un evento a cui teniamo moltissimo, un'estate da re nella reggia di Caserta e quest'anno anche nel bevedere San Leucio. È uno sforzo enorme che fa la Regione, ma abbiamo ritenuto farlo per valorizzare l'area casertana, per valorizzare dei beni monumentali unici al mondo come la reggia di Caserta. Abbiamo avuto due anni straordinari, abbiamo avuto presenze importanti da Pappano a Morricone a Daniel Oren, abbiamo portato la lirica, l'opera classica nella reggia e anche quest'anno avremo un programma splendido. Cominciamo a fine giugno il 27 con la nonna di Beethoven e concluderemo con due voci uniche al mondo, Kaufmann e Maria Agresta, davvero un programma straordinario.